3. Buongiorno dal Macalè, siamo in un nuovo locale con un uomo di bambi. Allora, sei pronto a pescare da due figli? Certo che sì. Vittorio. Vittorio, allora... Cosa c'è scritto? Il miglior poeta. Allora, sei pronto a farci una piccola poesia per noi? Certo che sì. Allora, se ne fai così. Finché la barca va. Finché la barca va, lasciala andare. Finché la barca va, uno a remare. Quella era una cazzone, però va bene. Dopo ci diamo il gettone e continuo a bere.